La Conference League si conferma stregata per la Fiorentina. Nella finale all'Arena di Atene trionfano i Greci dell'Olimpiakos. Viola sconfitta, 4 minuti dal termine dei tempi supplementari. È stata una finale davvero povera dal punto di vista tecnico. Tanta mediocrità, tanti errori in campo. I giliati recriminano per gli errori di Bonaventura e Guamè e per le altre occasioni da gol fallite. All'Italia non riesce il BIS dopo il successo dell'Atalanta in Europa League e il Torino resta fuori dall'Europa. Sarà ancora alla Fiorentina a rappresentarci nella Conference 24-25. L'amarezza dei Viola è tanta, soprattutto perché questa è la seconda finale di Conference consecutiva persa. L'anno scorso a Praga la squadra di Vincenzo italiano era stata piegata per 2-1 dagli inglesi del West Ham. Un'altra beffa, in terra cieca, fiorentina battuta. Dunque scrive il nome su questa Coppa anche l'Olimpiakos dopo la Roma trionfatrice nella prima edizione del 2022 e il West Ham. Mister italiano peraltro fallisce per la terza volta in una finale se consideriamo anche la Coppa Italia dell'anno scorso gettata alle ortiche contro l'Inter.